diavoli rossoneri è successa una cosa allucinante perché io non mi sono accorto di nulla preso dall'esultanza gridavo non mi sono accorto di nulla ma qualche iscritto al canale molto attento molto molto attento mi ha fatto notare una cosa nella reaction di ieri campione d'italia appena finita la partita mi viene da ridere perché adesso vi faccio vedere gli effetti di portare allo stadio tuo figlio di quattro anni lui la settimana prima allo stadio milan atalanta ha assimilato e ieri esploso e io non mi sono accorto di nulla parte il delirio ragazzi parte la festa mio figlio non sa manco cosa sta succedendo perché è preso dalla gioia ma non sa manco cosa sta succedendo ma a un certo punto leggete il labiale di mio figlio guardate adesso guardate adesso interista ma fa guardate guardate il labiale di mio figlio che se la ride da solo no ragazzi sto male io non mi sono accorto di nulla questi sono gli effetti di portare un bambino di quattro anni la settimana prima allo stadio la settimana prima della festa scudetto continuava a ripetere sempre e solo quella parola sto male ragazzi insomma è già uno della curva è già uno della curva